La camorra interra i suoi rifiuti nel napoletano e la mafia siciliana investe i soldi più lontano Questo sì che riciclaggio, sì ma di denaro sporco e tu adesso che lo sai gridano forte, non sono d'accordo, ma la gente muore a frotte laggiù nel napoletano e il pianeta intero adesso a non essere più sano, donne, uomini e bambini vanno uniti a protestare anche padre Zanotelli scende a fianco dei ribelli Dicono state tranquilli, c'è il termo valorizzatore, ma la piossina va fuori ancora come dal vento inceneritore e le discaliche dappertutto, pure nei parchi le vogliono fare, vogliono raccogliere l'inferenziato me lo rifiuti e riciclare Dicono state tranquilli, c'è il termo valorizzatore, ma la piossina va fuori ancora come dal vento inceneritore e le discaliche dappertutto, pure nei parchi le vogliono fare, vogliono raccogliere l'inferenziato me lo rifiuti e riciclare vogliono raccogliere l'inferenziato me lo rifiuti e riciclare la camorra in terra e i suoi rifiuti nel napoletano della mafia siciliana investe i soldi più lontano questo sì che è il riciclaggio, sì, mattina è uno smorco ecco adesso che lo sai gridalo forte, non sono d'accordo ecco adesso che lo sai gridalo forte, non sono d'accordo hey Grazie a tutti.